Vocato, solo per sapere se si avvalza la facoltà e non risponde. Ovviamente no, abbiamo volto da dire su questa storia. Se ci può dire qualcosa. Assolutamente no, diciamo i processi si fanno in tribunale e non in televisione. Non ha voluto riferire altro a Antonio Poglio, legale di Pasquale Garofalo, all'uscita del carcere di San Donato a Pescara, dove questa mattina si è tenuto l'interrogatorio di garanzia nell'ambito di una complessa inchiesta della procura pescarese che parte da ipotesi di reato come autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta e riva dritta e ha presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico del capologo adriatico. Garofalo, assistito dagli avvocati Antonio Poglio del Foro di Napoli e Antonio Valentini del Foro dell'Aquila, è stato ascoltato questa mattina dal GIP Francesco Marino, affiancato dal PM Luca Sciarretta, in merito al presunto giro di denaro o provento di attività illecite nella trattativa per l'acquisto del ristorante Le Terrazze Roof Garden, all'attico dell'hotel Esplanade, la cui gestione è estranea alla vicenda. 800 mila euro di dubbia provenienza, secondo l'accuso, è transitati da Garofalo alla società della famiglia di Natale, alla quale è stata lasciata l'amministrazione fittizia del ristorante attraverso la moglie di Adamo di Natale, Anna Paola Cavaliere e i domiciliari, insieme a Enzo Mazzocchetti, contabile pescherese di Garofalo e laica D'Agostino, braccio destro dell'imprenditore campano. Un modus operandi, quello di Garofalo, sempre secondo la procura pescherese, replicato anche in altri affari su Milano, con il sospetto che i capitali utilizzati provengano da attività illecite di stampo mafioso. I legali di Garofalo si riservano a richiedere un attenuamento della misura cautelare, in attesa di leggere più approfonditamente le carte, mentre venerdì mattina in tribunale saranno ascoltati tre agli arresti domiciliari. I capi di imputazione, lo ricordiamo, vanno dal trasferimento fraudolento di valori all'autoriciclaggio, all'utilizzo di beni e denari di provenienza illecita, alla bancarotta fraudolenta. Sequestrati 800 mila euro in beni, sette complessivamente gli indagati, ben 10 le società tra Napoli, Pescara e Milano coinvolte.